Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi, settimo giorno della novena di Natale, il brano del Vangelo ci presenta il meraviglioso Cantico del Magnificat, il cantico uscito dal cuore e dalle labbra dell'Immacolata. Lodata dalla parente Santa Elisabetta, la Madonna indirizza unicamente a Dio ogni lode e dice l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Impariamo dall'Immacolata l'umiltà e la riconoscenza. Attribuiamo unicamente a Dio tutto il bene che c'è in noi e tutto il bene che riusciamo a compiere. La superbia, in qualche modo, è un furto che noi facciamo a Dio e consiste nell'attribuire a se stessi il bene che, invece, è un dono del Creatore. Se saremo veramente umili di cuore, sentiremo la necessità di ringraziare con tutte le forze il sommo Benefattore che ama ricolmare di grazie i cuori umili e riconoscenti. La Madonna continua poi con queste parole. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. L'umiltà è stata la virtù che maggiormente ha riversato sull'Immacolata i benefici di Dio. Per umiltà qui si intende il riconoscimento della immensa grandezza di Dio e della propria piccolezza di creatura. Per quanto santa possa essere una creatura, di fronte a Dio è pur sempre piccola. E l'umile Maria sentiva fortemente questa piccolezza e per questo Dio la guardò con immenso amore e la ricolmò di beni e fece in lei grandi cose. La Madonna, in questo cantico del Magnificat, fece una profezia, dicendo che dall'ora in poi tutte le generazioni l'avrebbero chiamata Beata. E così fu. La devozione alla Madonna crebbe sempre di più e tutti i fedeli, dall'ora ad oggi, hanno amato e venerato la Madonna. E questa è la volontà di Dio che innalza gli umili, gli innalza molto in alto in Paradiso e gli innalza agli occhi di tutti. Nel Magnificat c'è poi questo versetto Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Chi sono questi potenti rovesciati dai troni? Innanzitutto sono Lucifero e gli altri angeli ribelli che si opposero a Dio e furono esclusi dal Paradiso. Ebbene, questi troni lasciati vuoti in Paradiso vengono occupati dagli umili di cuore. I superbi precipitano, gli umili vengono innalzati. E la Madonna ha il compito di riempire il Paradiso, di formare questi umili e di presentarli al Signore. Un altro versetto del Magnificat è il seguente Gli affamati sono i poveri in spirito, ovvero coloro che pongono in Dio la loro vera ricchezza, che hanno fame di Dio, che lo desiderano al di sopra di tutto e di tutti. I poveri in spirito sono nelle mani della Divina Providenza, mentre i ricchi di questo mondo, ovvero coloro che dimenticano Dio e confidano nei beni di questo mondo, rimarranno a mani vuote. Alle sublimi parole del Magnificat, secoli più tardi, fecero ecco le parole di Sant'Ambrogio, il quale così esclamava «L'anima di Maria sia in ciascuno per glorificare il Signore, lo Spirito di Maria sia in ciascuno per esultare in Dio». Anche in noi ci deve essere l'anima di Maria per glorificare, per magnificare il Signore. Anche in noi ci deve essere il suo Spirito per esultare in Dio. Dobbiamo essere animati da Maria, dobbiamo essere lei stessa vivente ed operante in questo mondo. E' questo l'effetto più bello della consacrazione all'Immacolata. Diversi autori che hanno trattato di questo tema hanno accennato a questa meravigliosa grazia. San Luigi di Monforte ne parla quando spiega gli effetti meravigliosi che si verificano in noi quando viviamo bene gli impegni della consacrazione alla Madonna. Egli così scriveva nel Trattato della vera devozione. San Luigi desiderò ardentemente l'avvento di un'epoca felice nella quale la devozione mariana si sarebbe talmente diffusa fino a diventare come l'aria che respiriamo. Così infatti egli scriveva Quando verrà quel tempo felice in cui la Divina Maria regnerà padrona e regina nei cuori per sottometterli all'impero del suo grande ed unico Gesù? Quando sarà che le anime respireranno Maria come i corpi respirano l'aria? San Luigi parlava di un'era di Maria ovvero di un periodo felice durante il quale si verificheranno delle meraviglie di grazia e anche noi magnificheremo il Signore. Così infatti scriveva Quando arriverà questo tempo felice questa era di Maria nella quale parecchie anime lette e che ella avrà ottenuto dall'Altissimo immergendosi volontariamente nell'abisso del suo cuore diventeranno copie viventi di Maria per amare e glorificare Gesù Cristo? Poco prima inoltre riportava In quel tempo accadranno cose meravigliose su questa terra dove lo Spirito Santo trovando la sua cara sposa come riprodotta nelle anime scenderà in esse abbondantemente e le riempirà dei suoi doni San Luigi accennava ad un'altra grazia molto grande che è come la causa di questa mistica trasformazione mariana San Luigi parlava infatti della potente azione dello Spirito Santo nelle anime contraddistinte da questa tenera devozione e gli affermava che nelle anime dove troverà riprodotta l'immacolata sua cara sposa lo Spirito Santo scenderà e le riempirà dell'abbondanza dei suoi doni Quando vi sarà questa era mariana predetta da San Luigi lo Spirito Santo compirà meraviglie di grazia Siano lodati Gesù e Maria Siano lodati Gesù e Maria